Ai tre arrestati sono stati contestati i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata a danno dell'Inps, nonché la violazione della normativa sul rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno. In particolare i titolari dello studio professionale, avvalendosi della propria struttura organizzativa, avrebbero messo su una illegale attività finalizzata a falsificare documenti per la permanenza di numerosi extracomunitari. I professionisti, insieme al titolare di una ditta, rilasciavano false assunzioni e relative buste paga, in cambio di lauti compensi. Il beneficiario era così in grado di esibire le attestazioni al fine di ottenere permessi di soggiorno e successive agevolazioni in caso di disoccupazione. Fondamentale era il contributo dell'imprenditore compiacente che formalizzava le numerose assunzioni presso la propria ditta, ma che ha insospettito i militari. L'organizzazione aziendale non giustificava l'impiego di centinaia di dipendenti, così a fine mese erano i falsi assunti a pagare il datore di lavoro in cambio delle preziose buste paga. Il danno all'Inps è stato quantificato in circa 225 mila euro.